Non succedeva niente, perché non vedevamo i rischi che facevamo a fare, quindi facevamo un paio di cose e tornavamo o a prendere i fracchiletti o a più o meno da una mamma e con un piatto di spaghetti tiravamo avanti. E poi nasce, questa è dedicata alla mia bimba, nasce questa canzone da una poesia di Valerio De Grigli che ci ha salutato due anni fa, e parla di una ragazzina che voleva scappare di casa, e ce la ricordiamo, faceva.